Per quanto riguarda Confindustria, sì, ho letto anch'io qualche dichiarazione del neopresidente di Confindustria, Bonomi, col quale peraltro ho un dialogo, essendo lui già esponente, di Asso Lombarda, non da oggi dalla sua designazione. Beh, quell'espressione è sicuramente infelice. Quell'espressione quindi la rimando al mittente perché è assolutamente infelice. Però voglio dire che abbiamo la responsabilità di governare un paese. Abbiamo lei stesso, ha parlato i stati generali dell'economia. Quindi agli stati generali dell'economia parteciperà Confindustria, come altre associazioni di categorie, anche quelle delle piccole e medie imprese, artigianato e via discorrendo, terzo settore. Adesso non voglio dimenticare nessuno, ma partecipano tutti. Tutti potranno portare ricette. Dalle interviste che ha rilasciato, devo desumere che Confindustria porterà progetti lungimiranti che non si limiteranno solo alla riduzione delle tasse, ma progetti di grande respiro e impatto per il futuro e il benessere collettivo del Paese. Quindi sono ben lieto di raccogliere e confrontarmi nel merito delle proposte anche con Confindustria.